Quello inferto ieri alla banda della marmotta è certamente un duro colpo, ma l'organizzazione criminale non è ancora totalmente sgominata. Infatti le indagini proseguono perché Carabinieri e Procura di Lanciano, nell'operazione rocambolesca portate a termine domenica notte, sono riusciti a catturare cinque componenti della banda che gli investigatori presumono sia però molto più ampia. La banda della marmotta, che prende il nome dalla modalità con cui vengono fatti saltare in aria ai Bancomat, con l'esplosivo piazzato all'interno degli sportelli automatici, ha le sue radici nella provincia di Foggia, ma preferisce mettere a segno furti e rapine nel sangrino, dove, soprattutto in piccoli centri, il controllo delle forze dell'ordine è meno capillare. La verità è che la pressione delle forze dell'ordine e dei Carabinieri, in particolare a Foggia, sta dando ottimi risultati. Quindi le batterie del Foggiano, che sono famose per essere professionisti nelle rapine e negli assalte a Bancomat, stanno cercando nuovi territori. Si sono avvicinate al Tlatino perché pensano che i paesi, soprattutto quelli del premontagno, possono dare una maggiore sicurezza e sono sull'asse autostradale. Ci sono voluti mesi di indagini e vari colpi messi a segno a ripetizione in tutta l'area frentana e della Val di Sangro per riuscire a tracciare i movimenti dei malviventi e quindi tendere loro la trappola. Azione che ieri notte ha anche rischiato di finire in tragedia, quando un ignaro gruppo di ragazzi del posto, a bordo di una 156, è piombata sul luogo dell'assalto, proprio mentre i Carabinieri stavano per uscire allo scoperto e bloccare i rapinatori. Fortunatamente nel conflitto a fuoco con i malviventi c'è stato soltanto un ferito, cioè uno dei banditi, che imbracciando un Kalashnikov aveva il compito di guardare le spalle ai complici. Ha riportato la frattura della tibia e dopo le cure mediche all'ospedale di Lanciano, ha raggiunto in cella i suoi sodali nel carcere di Villastanazzo. La guardia, assicurano i carabinieri, resta sempre alta perché la banda della marmotta sceglie i componenti di volta in volta a seconda del colpo e quindi, una volta riorganizzatasi, potrebbe tornare nuovamente a colpire in Abruzzo. Gli arresti di ieri, inoltre, testimoniano come la nostra regione, soprattutto la bassa provincia di Chieti, siano un territorio in cui i tentativi di infiltrazioni malavitose dalla Puglia e dalla Campania, siano più che una realtà con la connivenza di basisti locali in grado di segnalare i punti deboli sul territorio.